Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma dice anche in breve ma è bello ma è delicato andare nei boschi. C'è anche le cose ma andare nei boschi quando viene la caga è da pulire tutto il volto e continui a tagliare il pesco. È un po' impegnativo già. Ma è un po' impegnativo. 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 4 e 06.